La quarta giornata del pool promozione vede ancora una volta l'Aquila Rugby Club vittoriosa a giudicarsi 4 punti in classifica nella partita in casa contro la Ligure Prorecco, chiusa 16-8. Un match combattuto in una giornata uggiosa che non ha sicuramente facilitato il gioco, ma che non ha frenato l'entusiasmo e la determinazione neroverde. Il primo tempo si chiude in vantaggio per i Liguri che concretizzano 8 punti con calcio di punizione dalla piazzola di Agnel e meta del numero 8, Kevin Cacciagrano, al termine di un'azione di Rolling Mall. La ripresa si apre in condizioni meteo migliorate e l'Aquila Rugby decisa a riprendersi il vantaggio, con meta di Marcello Angelini, a conclusione di un'azione ben articolata, un cambio d'angolo veloce e tre quarti schierati in superiorità numerica. Gli spettatori del fattori sono in tripudio. Il match prosegue brioso e senza esclusione di colpi. L'Aquila Rugby terminerà la partita con un uomo in meno a 10 minuti dalla fine. Gli squali Liguri non concretizzano alcun punto e scivolano al terzo posto in classifica, mentre l'Aquila Rugby Club mantiene saldamente la seconda posizione a seguito dei medicei. Man of the match camulli, new entry nel team nero-verde, artefice di diverse azioni di gioco briose e interessanti.